Voteremo contrario Presidente perché abbiamo sentito le parole del collega De Priamo, però faccio notare che dal 2003 ad oggi questa formulazione dell'articolo 39 di fatto è rimasta sulla parte, all'epoca era appunto l'articolo 20, è rimasta pressoché uguale. Allora mi chiedo, ad oggi non mi pare ci siano stati problemi, dal 2003 ad oggi tutti i consiglieri insomma per carità, magari qualche problema può esserci stato, insomma però non mi pare che dal 2003 ad oggi sia stata modificata questa norma, tutti i consiglieri continuano e anche quando governavate voi collega, quindi mi chiedo perché non l'hai fatto prima se effettivamente questa norma era della Germania eccetera eccetera. Quindi potete vi farla a suo tempo, non l'avete fatto, quindi di fatto noi andiamo a confermare un articolato che ha una sua declinazione come quella del 2003. Quando governavate voi, quando ha governato anche la sinistra, quindi quando hanno governato le altre forze politiche questa norma non è mai stata toccata e lo spirito quindi di questa norma insomma è lo stesso. Quindi Presidente noi voteremo contrari perché l'attuale formulazione mi pare che sia aderente alla storia degli ultimi 15-16 anni di questa città. Grazie.